Quattro, tre, due, uno... Quattro, tre, due, due, due... Falta, Gil, tempo de distanza è ora? 5 mètres. 4'47. Atenzione alle corne, affosto. 1'10. Minuto. Quattro, vinti, trasi, 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 trasi. 16, 17, 14, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 48, 48, 49, 49, 49, 49, 50, 49, 50, 49, 50, 40